come sapete lo stiamo promuovendo già da diversi giorni sul sito del nostro telegiornale World News Web 24 TV ma anche sulla pagina del club Unesco di Cerignola questo importante evento che adesso la regia vi fa vedere subito ve lo facciamo vedere così introduciamo anche l'ospite che è con noi questo libro è un libro bellissimo si chiama Lo chiamavano l'incantato di Patrizia Bianco sarà presentato dal club Unesco di Cerignola in collaborazione con il nostro telegiornale nel corso dell'appuntamento del maggio dei libri venerdì 19 maggio a Palazzo Fornari a Cerignola nel Foggiano a il patrocinio del comune di Cerignola la protagonista di questo evento è una scrittrice potentina doc ma che ha saputo assaporare grazie all'intuito e alla sensibilità sia del nostro telegiornale che è del club Unesco di Cerignola il piacere di presentare il suo libro lo chiamavano l'incantato della casa editrice ho detto bene Patrizia Bianco? perfetto perfetto io sono felice di essere con voi e ringrazio tanto il mio caro amico Mimo Sena sono io che ringrazio te Patrizia di essere con noi in questa piacevole chiacchierata che ci porterà poi all'appuntamento di venerdì prossimo allora prima domanda Tosta prima di parlare del libro com'è nata questa passione per la scrittura? dietro ogni scrittore secondo me c'è la passione della lettura e quindi quando noi eravamo piccolini non ce l'avevamo il telefonino o comunque il computer per cui quel tunnel che ci serviva per tirarci fuori da una realtà un pochino pesante un po' tosta era rappresentata proprio dalla lettura e quindi io ricordo che quegli interminabili pomeriggi passati dalla nonna allora se si aveva con sé un libro insomma la fuga era assicurata e forse è proprio quello di cui sono ritornata a parlare anche in quest'ultimo libro Patrizia andiamo subito nel clima di questo splendido libro che vi facciamo vedere eccolo qua lo vedete in tutto e per tutto nella sua splendida calligrafia ma soprattutto copertina ma non vi speriamo molto di questo libro vi possiamo dire che è davvero un libro molto intenso ed emozionante Patrizia da dove vogliamo cominciare? fai tu allora io direi dall'ambientazione allora diciamo che lo chiamavano l'incantato l'incantato diciamo che dalle parti nostre è l'appellativo per diciamo piuttosto dialettale per indicare una persona che vive con la testa nelle nuvole che ha delle difficoltà a comprendere la realtà prima di essere compreso e chi di noi in classe non ha avuto una persona un po' così però poi mi sono resa conto Mimmo che guardando queste persone io mi guardavo me stessa e tante volte anch'io ho sentito la necessità di fuggire da una realtà che mi stava stretta e come questo ragazzo appunto il protagonista del romanzo Francesco Saverio Sonnessa o meglio Francesco Saverio Sonnessa come ci teneva tanto il padre a sottolineare si crea un tunnel oltre il quale la comprensione è totale del mondo per cui questo trucco gli serve sia da bambino che poi quando diventa grande e sarà diciamo una delle strategie per tirarsi fuori dai suoi problemi anche fisici perché l'incantato è una persona che ha delle difficoltà soffre di alalia quella che insomma diciamo si chiama la difficoltà a parlare correttamente la balbuzie per cui anche a scuola se la vede molto male e con l'ambiente che c'era a scuola un pochino la società degli anni 50 le cose si facevano dure e tra l'altro poi nel lungo percorso che Saverio farà nel corso di questo racconto e anche del libro riuscirà piano piano a risolvere i suoi problemi e naturalmente anche avrà la possibilità di riscattarsi in pieno contro uno dei suoi parenti e fin qui ci fermiamo per non svelare tutto ma questo farà capire ai lettori cosa vuol dire riuscire nel tempo a migliorarsi a fare in modo che la forma autistica possa essere risolta soltanto contando sulle proprie forze correggimi se sbaglio Patrizia sì Mimmo hai ragione non per minimizzare perché non sarebbe corretto farlo le difficoltà ci sono però spuntare la freccia della revanche della vendetta è fondamentale e lo si può fare perché è facile dopo che tu ne hai subite tante da una persona che magari ti ha fatto molto male anche a noi può capitare di pensare io tutto ciò che voglio è vedere questa persona stare peggio di come lui fa stare me è normale, è naturale, è umano il tutto viene cancellato nel momento in cui la persona guarda se stesso guarda le proprie potenzialità e allora va su una sua linea a un suo binario non ha più bisogno di aggrapparsi sulle spoglie del suo nemico e quindi questo diciamo è il fondo del messaggio che vorrei lanciare qualcosa del messaggio che noi lanceremo sicuramente venerdì voglio ricordare che è stata molto preziosa la sensibilità di Rosaria Di Gregorio presidente del club unisco di Cerignola che ci ha portato all'appuntamento di venerdì ma anche e soprattutto questo lo possiamo svelare che alcuni dei passi dello splendido romanzo di Patrizia verranno lette da un'amica omologa Patrizia Di Piceglia che naturalmente sarà protagonista e naturalmente invitiamo davvero tutti quanti ad esserci e a goderci questo splendido pomeriggio a Palazzo Fornari prima però di lasciare Patrizia voglio chiedergli se ha dei progetti futuri oltre a questo splendido libro che abbiamo allora diciamo che questo libro di cui parleremo venerdì di cui appunto stiamo parlando anche oggi chiude la trilogia dei miei romanzi ambientati nella mia basilicata quest'ultimo nel Vulture Radici Lucane si svolgeva in una saga familiare ambientata negli anni 30 a Matera il primo era una storia di adozione perché io sono mamma adottiva per cui nel mio primo libro avevo raccontato questa nostra la storia della nostra famiglia e del ritorno anche in Ucraina a dieci anni dall'adozione fra l'altro nei luoghi tristemente noti in cui appunto che sono diventati campo di battaglia e che ancora non era in cui ancora non era scoppiato queste catombe nel prossimo romanzo basta lasceremo la basilicata si va nella città nella grande città a Napoli dove io ho studiato quindi e che amo profondamente sarà una storia di amore una storia in cui continuerò a scavare perché bisogna bisogna essere veri Mimo il lettore ci ci svela immediatamente ci scopre e abbandona abbandona le pagine se non ci trova verità se non ci trova coinvolgimento se lo scrittore non non ha non ha vera intenzione di mettersi in gioco e quindi ci sarà il tema della infecondità ci sarà il tema della 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 malavita del vivere sotto ricatto il tema del terrorismo perché si svolge una storia che si svolge a cavallo degli anni 80 spero spero che di lavorare in questo senso e di non fermarmi finché non sono convinta che vada effettivamente tutto bene benissimo allora con questo ritorno di Patrizia Bianco lo chiamavo dall'incantato l'appuntamento lo ricordiamo il venerdì prossimo ci saremo anche noi non perdeteci e soprattutto seguiteci perché ne vedremo davvero delle belle a Palazzo Fornari venerdì prossimo grazie Patrizia Bianco vi aspettiamo ciao a tutti ciao Mimmo grazie a tutti